Tre giorni di festeggiamenti a Ciriè per i 40 anni di note dei music Piemonteis. Luigi Perrero. Celebrare il passato guardando al futuro con la mostra I nostri primi 40 anni, gli album di fotografie con la prima formazione, anno 1976, filmati di concerti, riconoscimenti dall'Italia e dall'estero, locandine da tutto il mondo. Il segreto del successo è quello di aver unito la musica con il canto. Giovani e meno giovani che si esibiscono insieme, cori e solisti. Il motivo della longevità è quello del tanto lavoro e tanto impegno. Il nostro repertorio spazia nel linguaggio musicale, nel mondo del panorama della letteratura bandistica, sino a quella dell'Evergreen, proponendo chiaramente il tutto in una chiave più moderna. Europa, Stati Uniti, Israele, Brasile. I music Piemonteis, orchestra giovanile italiane e coro della città di Ciriè, hanno portato la loro musica in tutto il mondo, guidati dal maestro fondatore Ugo Bairo, premiato per l'occasione insieme alla signora Angela Tibaldi. Da due anni a dirigere l'orchestra al maestro Bar, e il concerto celebrativo di Ciriè a Villa Remmert, tappa finale di tre giorni di festeggiamenti, rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo. Il concerto di gala 4.0, viaggio nella musica, vuole celebrare il passato ma anche presentare quello che sarà il futuro dei music Piemonteis. Il repertorio scelto dal maestro Bar celebra i 40 anni, divisi per decenni. Dagli Abba con Mamma Mia a Modugno, da Adela a Memory, dal Musical Cats con la voce solista di Perla Caruso, sulle note di What a Wonderful World auguriamo ai music di continuare a portare la loro musica nel mondo. Grazie a tutti.